E poi, Ellie, dobbiamo curare i temi che veramente interessano gli italiani. Innanzitutto, l'LGBTPSFI, KLMNI, e non lo so, cos'è? LGBT, cosa? Q, più, più, meno, ma anche il meno, il per, il diviso, li facciamo tutti, Ellie. E questo è importante, ogni italiano, infatti la mattina, si svegna, magari senza lavoro, la prima cosa che dice è, eh, l'LGBTQKLMI più per, il diviso per, eh, 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 chiaramente.